forza nemiche all'orizzonte negativo concentrate fire on the designated target generatore di fumo avviato c'est un peu L'incrociatore nemico affondato Rilasciata cortina fumogena La nostra squadra è in vantaggio Abbiamo distrutto un incrociatore nemico Problema risolto signore La nostra vittoria è vicina Sovralimentazione disattivata Grazie a tutti 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 La nostra vittoria è vicina La nostra vittoria è vicina Generatore di fumo avviato Sovralimentazione attivata Incrociatore nemico affondato Rilasciata cortina fumogena Sovralimentazione attivata Sovralimentazione disattivata Sovralimentazione attivata Sovralimentazione attivata Sovralimentazione attivata Sovralimentazione attivata Problema risolto signore Allarme incendio Allarme incendio Sovralimentazione attivata Sovralimentazione attivata Sovralimentazione attivata Grazie a tutti.